L'imprenditore fanese Fabrizio Giuliani del negozio Fabrizio Multistore e due suoi commercialisti di fiducia sono coinvolti in una maxifrode fiscale internazionale da 55 milioni di euro che ha coinvolto 12 società di cui 5 estere e 7 italiane. Con l'operazione Grandi Magazzini la Guardia di Finanza di Fano ha sequestrato oltre 11 milioni e 600 mila euro di beni e disponibilità finanziarie di cui più di 7 milioni in conti correnti di banche italiane e sanmarinesi tramite rogatoria internazionale attivata dalla Procura della Repubblica di Pesaro. Il decreto tuttavia è finalizzato a confiscare fino a circa 15 milioni di euro. Le Fiamme Gialle hanno scoperto che con triangolazioni commerciali tra il 2008 e il 2015 società straniere vendevano capi di abbigliamento griffati a una società di Fano con sede logistica in via Enaudi nella zona industriale di Bellocchi e con l'interposizione di società italiane cartiere apri e chiudi che acquistavano in modo fittizio e poi rivendevano la merce a prezzi competitivi. L'associazione per delinquere ha così ottenuto elevati profitti senza dichiarare e versare i tributi e alterando così la concorrenza del mercato. Parliamo di un'associazione per delinquere finalizzata all'evasione fiscale internazionale tramite l'utilizzo di fatture per operazioni inesistenti o messa a presentazione della dichiarazione in Italia. Tali reati hanno anche l'aggravante della trasnazionalità in quanto compiuti fuori dal territorio nazionale. Si tratta di un'associazione per delinquere ramificata in Italia e all'estero, al cui interno sono risultati centrali i ruoli svolti da due commercialisti di fiducia, uno in Lettonia e l'altro in Italia, a 20 sede in Italia. I sequestri giungono al termine di laboriose attività investigative che hanno portato al rinvenimento di una copiosa documentazione trovata durante le perquisizioni svolte nelle società italiane intestate e prestanomi compiacenti e soprattutto nelle abitazioni degli indagati. In totale sono state 11 le persone denunciate, tra cui il noto imprenditore fanese che risultava nulla tenente e con una villa a Montegiove intestata alla moglie. Le fiamme gialle però assicurano che le indagini non sono concluse, proseguiranno dunque ulteriori accertamenti. È parte di una squadra che ha portato a termine una maxioperazione di polizia giudiziaria finalizzata al contrasto alla frode fiscale. Grazie a tutti.